Buongiorno e bentrovati all'appuntamento del mattino con l'informazione di Icaro Tg. È attesa tra oggi e domani l'autopsia su Samuel in Bhutan, il bambino di 11 anni di Rimini deceduto giovedì scorso in Sardegna nell'esplosione del camper con il quale era in vacanza con la famiglia nelle spiagge della provincia di Sassari. C'è un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza iscritti i vigili del fuoco e la procura di Tempio Pausania stanno indagando sulle cause di questo gravissimo incidente che ha visto l'esplosione di un camper, la distruzione anche dell'altro camper, della comitiva proveniente da Rimini che è stato distrutto da questo incendio causato da un'esplosione. Bisognerà capire qual è stata la dinamica di questa esplosione, soprattutto se c'era una situazione a norma di tutte le attrezzature dei camper, anche della stessa spiaggia perché si tratterebbe di una spiaggia comunque privata, quindi ancora tutto da ricostruire, se ne stanno occupando anche i locali carabinieri. Il fatto che poi sia effettuata l'autopsia dovrebbe comunque permettere poi di stabilire anche una data per il funerale di Samuel, intanto i genitori restano comunque a Sassari. E' stata dimessa la madre che era stata ricoverata nel reparto di psichiatria appunto per lo shock in cui era caduta, mentre resta ricoverato il padre che ha gravi ustioni sul 40% del corpo dovute appunto al tentativo di salvare Samuel, tentativo purtroppo vano di salvarlo dalle fiamme. Parliamo di pesca perché ci sono dei progetti che nascono per la pesca romagnola, anche e soprattutto per la pesca di Rimini, che resta comunque un settore importante per l'economia locale, un piano per uno sviluppo sostenibile di pesca e acquacoltura della costa riminese, con la nascita anche di un GAL, un gruppo di autonomia locale. E ci sono in corso degli incontri per presentare appunto questo progetto, in particolare domani alle 11 alla Casa del Pescatore di Cattolica e poi alle 15.30, sempre domani a Villa Lodi-Fadiriccione, mercoledì alle 11 alla Sala Consigliare del Comune di Bellaria, giovedì 7 settembre alle 16 a Rimini nella Sala Consigliare alla Palazzo Ex Aquila d'Oro, la Sala del Consiglio Comunale in Piazza Cavour. Vediamo nello specifico quali sono gli obiettivi di questo progetto. Tante azioni in programma per fare della pesca a Rimini un comparto moderno e sostenibile. Tra gli obiettivi la migliore accessibilità nell'area portuale, il potenziamento delle infrastrutture a servizio della pesca, analisi per migliorare l'uso del porto canale col potenziamento degli ormeggi e degli spazi per i pescatori e ancora ammodernamento del lavoro al mercato ittico e della flotta di pescherecci per avere più sicurezza a bordo e ridurre i consumi energetici, progetti di ricerca, monitoraggio e promozione delle specie aliene a scopo alimentare, sensibilizzazione sulle produzioni a chilometro zero e sulla bontà delle specie ittiche locali e infine la realizzazione di eventi, percorsi turistico-culturali e strategie in materia di blu economy sostenibile. Una proposta che nasce nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-27 e con la costruzione di un nuovo GAL, un gruppo di azione locale pesca e acquacoltura costa dell'Emilia-Romagna. L'iniziativa sarà presentata il 7 settembre nella sala del Consiglio Comunale di Rimini in un incontro pubblico. La marineria riminese conta 76 moto pescherecci ed ha occupazione a 330 marittimi. A Rimini c'è anche il progetto per il Centro Servizi Polivalente per la Pesca e l'Acquacoltura Italiana. Un settembre dal punto di vista del meteo, che almeno nella prima parte dovrebbe essere ancora tipicamente estivo, con buona soddisfazione anche degli operatori turistici che auspicano, anche poi con il retraino di grandi eventi come la MotoGP, di poter allungare ancora di qualche settimana la stagione, tenendo comunque presente che poi a metà settembre cominceranno le scuole. Fatto sta che c'è una situazione di rinforzo dell'alta pressione, anche se sui settori costieri circolerà aria più fresca. Ci saranno temperature di 33-35 gradi di massima nelle pianure emiliane, mentre i settori costieri saranno influenzati dalla presenza di un centro di bassa pressione in quota, associato ad aria più fresca proveniente dai Balcani. Andiamo allora a vedere nello specifico le previsioni per la provincia di Rimini. Oggi cielo sereno o velato, con una massima di 26 gradi, che comunque è nelle medie stagionali. Per quanto riguarda invece i rilievi, la massima di 22 gradi, quindi più fresco in collina. Le previsioni per domani, situazione simile con cielo sereno e una massima di 25 gradi. La tendenza per mercoledì, vede ancora in questo caso una situazione pressoché simile, con cielo sereno o poco nuvoloso, è massima di 26 gradi sulla costa. Quindi non sarà un caldo torrido per quanto riguarda la provincia di Rimini, ma magari ancora qualche buona giornata per godere dell'estate. E settembre è anche un mese importante per l'aeroporto di Rimini, che cerca di consolidare i numeri del rilancio e anche di consolidare il programma, il cartellone dei voli. Intanto sono arrivati i numeri dei primi otto mesi dell'anno. Vediamo. Con i 48 mila passeggeri di agosto, l'aeroporto Fellini di Rimini supera nei primi otto mesi 2023 quota 200 mila, un dato molto vicino ai 215 mila dell'intero 2022. Buono il tasso di riempimento dei voli, 89%, con un picco per i collegamenti con la città lituana di Kaunas, 93,7%, a seguire le rotte polacche per Varsavia e Cracovia. Complessivamente i passeggeri commerciali dei primi otto mesi sono stati il 36% in più del 2022. La parte del Leone la fa Ryanair, che cresce di quasi il 22% e rappresenta, con le sue nove rotte, il 71,2% del traffico davanti a Wizer, ferma al 20,8%. Il primo mercato è quello italiano, fatto dai collegamenti con Palermo e Cagliari, quest'ultima confermata infatti con due frequenze anche nei mesi invernali. A seguire Albania, Ungheria e Regno Unito. Resta un gap del 27% rispetto ai dati 2019, dovuto ai 165 mila passeggeri in meno tra Russia, Ucraina e Bielorussia, in parte compensati dalla crescita dell'88% degli altri mercati. In attesa di capire se i restanti mesi dell'anno permetteranno al Fellini di avvicinarsi proprio a quei 400 mila passeggeri del 2019, che rappresentano finora il record della gestione a Riminum, inizia a muoversi qualcosa in vista del 2024. Luxair, ad esempio, ha deciso di aumentare le frequenze estive per il Lussemburgo, ed è già in vendita il volo Wizer per Tirana, anche se senza aumenti di frequenze. Settembre potrebbe però portare importanti novità. Comune di Rimini e Regione spingono per ampliare le rotte e guardano alla Germania, Francoforte o Dusseldorf, per la sua valenza anche dal punto di vista fieristico e congressuale. C'è l'ipotesi di un ingresso di IEG in società, mentre la Regione pensa ad azioni di co-marketing e ci sono in calendario incontri in Germania con l'ambasciatore italiano e referenti di Lufthansa. Il Fellini sarà anche al centro del tavolo che partirà a Roma tra i vertici della Repubblica di San Marino e il Ministero. Obiettivo valorizzare gli accordi sull'internazionalità dello scalo. Sullo sfondo un altro accordo, quello già firmato dal Titano, che permetterebbe l'apertura di linee di volo per le compagnie degli Emirati Arabi, proprio su Rimini. Andiamo a Riccione per parlare di politica. Il nuovo soggetto, che è nato dall'Unione delle Liste Civiche nell'ambito del centrodestra, in attesa di ufficializzare il nome e anche il logo, ha presentato la squadra, quella della segreteria. Il segretario è Fabrizio Pullè. Tra i componenti c'è l'ex sindaco Tosi e anche diversi assessori. C'è l'ex presidente del Consiglio Comunale, Gabriele Galassi, che si occupa di sicurezza. E poi, dicevamo, gli ex assessori Laura Galli, che si occuperà di sociale, Lea Ermeti per i lavori pubblici, Alessandra Battarra alla cultura, Stefano Caldari al turismo e l'ex sindaco Renata Tosi all'urbanistica. Le tre civiche che hanno dato vita a questa realtà alle ultime elezioni hanno conseguito nel complesso il 23%. Si è riaperta la stagione venatoria e immancabili ormai ogni anno sono le polemiche per cacciatori che opererebbero troppo vicino ad abitazioni e piste ciclabili. Questa volta la segnalazione ci arriva da un residente della zona del Marano, che dice i pallini sono arrivati fino a casa mia, pallini all'interno della proprietà in zona San Lorenzo e chi vive in campagna lamenta poi anche il rumore degli spari fin dalle prime ore del mattino, la domenica, e timori anche per gli animali domestici. Vedremo se si tratta di segnalazioni isolate. Apriamo la pagina sportiva per parlare della MotoGP che è stata ieri in Catalogna poco propizia per i piloti riminesi. Addirittura Enea Bastianini è stato protagonista di un incidente in apertura che gli è costato la frattura di un dito che gli farà saltare il Gran Premio di casa a Misano. E invece è finito molto indietro Marco Bezzecchi che è partito con la seconda moto dopo l'incidente appunto del giro iniziale ed è arrivato dodicesimo. Per quanto riguarda la classifica generale, Bagnaia che ieri è stato a sua volta protagonista di un altro grave incidente, per fortuna senza conseguenze, resta in vetta con 260 punti davanti a Martin con 210 e poi Bezzecchi con 189. Per il calcio c'è stata la presentazione sabato sera dello Young Sant'Arcangelo, la società Clementina che ha appunto presentato staff e obiettivi per la nuova stagione. Vediamo. Questa è una società che è nata e ha combattuto giorno dopo giorno col calcio, con gli strumenti del calcio, con gli strumenti della trasparenza e con gli strumenti di una buona società e quindi a tutti loro ha fatto un applauso secondo me. È un sogno, è un sogno essere qui su questa piazza, è un sogno come i sogni che devono avere questi ragazzi, che devono avere il sogno di vestire e essere in quell'angolo là un giorno. In prima squadra, quindi il sogno è arrivare in prima squadra. In prima squadra e loro devono coltivare questo sogno e noi abbiamo come società l'obbligo, il dovere morale di mettere in campo tutti gli strumenti possibili per far sì che loro possano realizzare il loro sogno. Siamo molto soddisfatti dell'arrivo di questa nuova stagione, siamo carichi, non vediamo l'ora di iniziare. Siamo soddisfatti a livello societario per la Rosa che è stata completata con ottima soddisfazione. Diciamo che abbiamo trovato più o meno tutto quello che cercavamo, giovani, l'età media è 23 anni della Rosa, quindi questa è la prima soddisfazione visto il nostro nome che portiamo, Young Sant'Arcangelo. Tanti ragazzi di Sant'Arcangelo e questa è l'ulteriore soddisfazione. Ce la metteremo tutta per arrivare agli obiettivi prestabiliti. Può succedere di tutto perché la palla rotonda è campionato lungo, sarà un campionato competitivo, però noi daremo il 110% tutte le domeniche. Le soddisfazioni sono multiple perché sempre più stiamo tenendo fede a quello che è il nome e quindi lo Young Sant'Arcangelo credo che sia sempre più young, sempre più giovane, non solo nell'età ma anche nei modi, anche nei metodi, anche nella voglia di comunicare, di condividere, di imparare che è tipica dei più giovani. Ed è cominciata bene la stagione ufficiale dello Young perché ieri nel primo impegno di Coppa Emilia i Clementini si sono imposti per 2-0 sul campo del ronco freddo. Siamo in conclusione, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it, vi ricordo dalle 9 e 5, sempre su Radio Icaro e Icaro TV, l'appuntamento con Tempo Reale Estate e poi i nostri telegiornali, quello delle 13 e 15 e le edizioni serali alle 19 e 15 e 20 e 15. Grazie a tutti voi per averci seguito, dalla redazione ancora l'augurio di una buona giornata.